venerdì ultimo video della settimana quello un po più tranquillo rilassato che come sapete da oggi sarà dedicato a nba 2k in particolare oggi non cominceremo subito a giocare coi gameplay ma cominceremo da venerdì prossimo perché prima c'è da spiegare nel dettaglio quello che andremo a fare questo perché come vi dicevo non utilizzeremo una delle tante modalità presenti nel gioco perché noi siamo cominciamo a giocare a marzo praticamente il gioco è uscito a ottobre e ci sono già tantissimi canali che fanno giocano alle diverse modalità canali anche più grandi con più iscritti rispetto al nostro per cui io volevo portare qui su campo aperto un qualche cosa che potresse essere iconico riconoscibile che potrete trovare soltanto su campo aperto anche perché le diverse modalità del gioco chi per un motivo chi per un altro non rispondevano in pieno a tutti i requisiti gli obiettivi che io cercavo in una modalità di gioco che fosse più adatta possibile al nostro canale quali erano quali sono questi obiettivi questi prerequisiti beh innanzitutto io volevo e voglio che si possano utilizzare all'interno della nostra mini rubrica sperimentale di NBA 2K tutti i giocatori di tutte le squadre del gioco e voglio vederli sia utilizzati da me e quindi giocati dalla persona che in carne ed ossa gioca a NBA 2K che utilizzati dal computer mettiamoci subito d'accordo su un tema io ormai per 20 anni ho detto il computer quindi continuerò a chiamarlo il computer le squadre che manovra da sé in automatico che in realtà non è il computer è la playstation 4 è la cpu chiamatela come volete però per intenderci cominciamo a dare delle regole di nomenclatura quando dirò il computer sapete a cosa mi riferisco quindi volevo voglio che tutti i giocatori li possiamo osservare sia usati da me che usati dal computer questo per valutare bene sia gli aspetti grafici che sono molto importanti in un videogioco di questo tipo che anche e soprattutto l'usabilità la giocabilità del giocatore le mosse speciali come regge il campo in quale posizione lo si può utilizzare meglio se in una in un'altra insomma lo vorrei visualizzare a 360 gradi in più secondo prerequisito volevo dei video che fossero tutti diversi l'uno dall'altro cioè ogni puntata ogni venerdì dedicato a NBA 2K volevo che fosse diversa dall'altra ma che allo stesso tempo avessero tutte le puntate un filo conduttore unico una storia da seguire e da sviluppare venerdì dopo venerdì perché poi di fatto è quello che ci fa appassionare a una serie qui su youtube sia voi che la guardate sia per me che la interpreto in prima persona anche perché terzo prerequisito volevo un qualche cosa che potesse rendervi assolutamente attivi e partecipi nelle decisioni da prendere in tutti quelli che sono i vari aspetti del gioco voi sarete una parte integrante di questa modalità di gioco assieme a me e prenderete assieme a me tutte le decisioni che ci saranno da prendere la prima l'avete già presa ed è la squadra che utilizzeremo lo trovate già su instagram credo quando sarà pubblicato questo video la seconda la prenderete nella prossima settimana ossia la nostra rivale la squadra contro la quale andremo a giocare e poi via durante le settimane in base ai giocatori che potremo scegliere vi verrà chiesto sempre di decidere chi mettere in squadra ma questo lo vedrete subito perché ci trasferiamo al computer e vediamo di chiarirci meglio allora questa è la schermata di base di partenza il tabellone che vedrete in ogni video all'inizio e alla fine del video qui è riassunta tutta la nostra stagione il nostro torneo ok come vedete nel mezzo ci sono tutte le squadre della nba tutte le 30 squadre ordinate in rigoroso ordine alfabetico e poi ci sono due tabelloni laterali che sono uno il nostro campo aperto questi saremo noi la nostra squadra qui poi magari al posto del logo di campo aperto ci sarà il logo della squadra che avremo avrete anzi scelto e di qua invece il famoso computer e anche qui ci metteremo il logo della squadra che sceglierete come funzionerà ogni singolo video la prima parte che ci interesserà sarà questa qua che è il la parte diciamo dell'estrazione vado a spiegare ogni video comincerà con questo tabellone dove noi qui ad esempio scrivo puntata 0 poi sarà puntata 1 2 3 tutte quante quando io darò invio qui c'è una formula che consente al computer in automatico di estrarre in maniera assolutamente casuale un numero da 1 a 30 e di associare chiaramente la squadra che è correlata a quel numero vado a farvi vedere invio boom primo marzo numero 4 charlotte hornets significa che durante la prima ipotetica puntata in realtà oggi non giochiamo ripeto però fa per farvi capire ci giocheremo gli charlotte hornets in che modo giocheremo una partita una singola partita me contro il computer noi contro il computer dove noi prenderemo gli charlotte hornets e anche il computer prenderà gli charlotte hornets potrà sembrare una partita surreale ma in realtà è il modo migliore per vedere le differenze di gioco che ci sono giocatore per giocatore tra essere usati in automatico dal computer oppure tra usarli noi in manuale al termine della partita in base a chi avrà vinto tra noi e il computer gli charlotte hornets finiranno da una parte o dall'altra se per esempio vinciamo noi gli charlotte hornets diventeranno una delle squadre che faranno parte del nostro roster la seconda volta il secondo video verrà estratta un'altra squadra mettiamo che ne so per ipotesi puntata 1 gli indiana pacers numero 12 verrà giocata la stessa partita noi contro il computer indiana pacers contro indiana pacers e al termine della partita chi vince si prenderà gli indiana pacers o meglio prenderà i diritti sui giocatori dei pacers per cui nell'ipotesi in cui abbia vinto ad esempio il computer gli indiana pacers finiranno di qua questo verrà ripetuto per tutte e 30 le squadre in modo tale che alla fine su alcune squadre avremo i diritti noi su altre squadre avrà i diritti il computer questo per la prima parte di ogni video cioè la prima partita la partita di assegnazione poi ci sarà una seconda partita in ogni video in cui giocheremo direttamente noi contro il computer e le squadre dovranno essere fatte pescando dai giocatori esclusivamente delle squadre che abbiamo vinto che abbiamo guadagnato con le assegnazioni quindi in questa ipotesi nella partita che giocheremo noi avremo ovviamente tutto il roster degli hornets e il computer tutto il roster dei pacers ma quando poi avremo più squadre noi andremo a scegliere giocatore per giocatore in base alle caratteristiche pescando da queste diverse squadre come funziona però per la vittoria finale funziona che le partite in cui giocheremo il nostro roster contro il loro roster mettiamola così verranno calcolate nel seguente modo mettiamo che la prima la vinciamo noi noi andiamo a quota un punto in classifica e qui in questo tabellone verrà scritto risultato statistiche tutto il resto qui poi le partite andranno ad aumentare verso il basso se la seconda partita nel secondo video nella seconda puntata la vinciamo ancora noi noi andiamo a quota 2 ma se la terza partita la vincono loro la vince il computer il computer guadagna un punto e noi ne perdiamo uno quindi anche se abbiamo vinto noi due partite e loro una però la classifica il risultato sta 1 a 1 stessa cosa poi andando avanti così di fila e vince alla fine chi per primo arriva a quota 7 punti chiaramente poi sulla destra qui nella parte che rimane libera ci sarà tutto lo spazio dedicato ai singoli giocatori quindi ci sarà classifica mvp classifica migliori realizzatori rimbalzisti assist men prenderemo tutte le statistiche di queste partite noi contro loro non delle assegnazioni chiaramente in modo tale che alla fine del torneo avremo un mvp un miglior realizzatore un miglior rimbalzista e anche questo concorre a fare storyline a fare intrattenimento quindi ricapitolando in ogni video vedrete due partite la prima di assegnazione e la seconda di torneo vero e proprio non so se le metterò entrambe in versione integrale perché verrebbe un video molto molto lungo però potremo magari fare dei tagli mettere le azioni salienti le parti più importanti decisive questo lo vedremo in corso d'opera chiaramente la prima parte che è quella che varia in ogni video la parte della segnazione a volte sarà più interessante dipende dalla squadra che viene sorteggiata a volte meno ci saranno delle squadre poco influenti ma quando andremo a giocarci gli warriors i lakers i rockets e ci saranno i giocatori quelli tosti e in base a chi vince poi si deciderà chi potrà avere al roster quel o quei giocatori allora la cosa si farà molto molto interessante un'altra cosa che ovviamente capite bene da soli è che non è detto che questo torneo abbia il lieto fine non si sa chi vincerà tra noi e il computer noi ce la metteremo tutta sia dal punto di vista della selezione dei giocatori che dal punto di vista proprio della manualità di gioco non vi spoilerò chiaramente il livello al quale giocheremo considerate che sono due anni che non prendo in mano il joystick però non potete sapere a quale livello giocavo in precedenza ve lo dirò soltanto alla fine della serie quindi alla fine di tutti i video voi intanto cominciate a fare le vostre ipotesi e spero soprattutto che un torneo organizzato in questo modo possa essere divertente possa appassionare tanto voi quanto me che poi andrò a giocarlo come vi dicevo voi sarete parte integrante e fondamentale perché di settimana in settimana in base alla squadra che guadagneremo nell'assegnazione vi verrà richiesto di scegliere quali giocatori di quella squadra mettere nei 12 e quali invece scartare per cui sarete una parte molto attiva e fondamentale fatemi sapere se vi piace e fatemi sapere anche se vi viene qualche idea in mente relativa al nome che potremo dare al nostro torneo vi leggo qui sotto nei commenti